Ciao ragazzi, vogliamo innanzitutto ricordare chi siamo noi? Fotografi! Bene, giusto. Ma cosa vogliamo noi? Macchine fotografiche più piccole! Eh sì, ma siamo sinceri, cos'è che vogliamo davvero? E magari che costino meno. Oh, è qui che vi volevo. Gli annunci di oggi riguardano Fujifilm, riguardano effettivamente tante succose novità, sarà lungo questo video, armatevi di popcorn e di una bella birra ghiacciata, novità che riguardano sia prestazioni come ha fatto Sony, vi rimando le bocce news live di ieri, ma più che prestazioni, corpi sempre più piccoli e prezzi comunque sempre meno impegnativi. Ma penso che siete curiosi di vedere questa edizione delle bocce news del 27 gennaio 2021 e quindi andiamo avanti, subito dopo, la sigla! Partiamo subito dal bocconcino, anzi, dal bel boccone ghiotto, ovvero la nuova nata della famiglia, GFX, che viene subito presentato con questo slogan, More Than Full Frame. Ricordiamo sempre il coraggio di Fujifilm di non entrare nel mercato full frame e devi scavalcarlo puntando direttamente a questa super full frame, questo è medio formato. E ricordiamo un pochettino quali sono stati i passaggi di questi ultimi quattro anni, del febbraio del 2017 con il lancio della prima GFX da 50 megapixel, la primissima, novembre 2018 con questa comunque GFX 50R più compatta, bruttissima, onestamente dal punto di vista estetico, ma effettivamente è facile da portare sempre con noi. Il botto è arrivato due anni fa, nel 2019, con le GFX 100, i 100 megapixel, che portavano avanti una serie di grosse novità, non solo risoluzione, ma la prima volta di una medio formato con il sensore stabilizzato a livello sensore, IBIS, e con il video senza crop 4K 30p e soprattutto il rilevamento di fase nella messa a fuoco. Un'ulteriore evoluzione, l'ho avuta sempre la 100, con la possibilità di sfruttare il meccanismo dell'Ibis per fare il multishot, quindi andare a fondere più scatti, per andare quindi a scavalcare i problemi che derivano dalla matrice di Bayer, quindi dalla matrice rossa, verde e blu, e avere 400 megapixel senza falsi colori, per chi ha il coraggio di gestire ovviamente i file di queste dimensioni. Ma oggi finalmente arriva la 100S, in cui S sta, senza tanti mezzi sereti, in small, più compatta, più portatile, ma sempre 100 megapixel. Infatti il sensore rimane esattamente lo stesso, sempre retroluminato, da 43,8 x 32,9 mm. Ma tutto questo è un corpo che pesa ben mezzo chilo di meno, vabbè, direte, ovvio, è stato tolto il vertical grip integrato. Comunque mezzo chilo di meno è un 30% più piccolo. Il peso è 821 grammi senza batteria e scheda di memoria. Confrontati qui si vedono ancora meglio, ma si vede che la cura dimagrante è arrivata anche a quello che è il meccanismo di stabilizzazione. Infatti andando a stabilizzarlo non ho reso 20% più piccolo e 10% più leggero, e questo permette di guadagnare un altro mezzo stop nell'efficacia della stabilizzazione. Si passano dai 5,5 ai 6, dai 5 ai 6, insomma si guadagna tra il mezzo e lo stop intero in basso a quella che è l'ottica che stiamo utilizzando. Anche l'otturatore è più piccolo e più leggero, e questo vi permette di essere più efficace. Ci sono meno vibrazione e c'è praticamente il lag, il tempo perso tra quando noi parliamo uno stato e quando effettivamente c'è il movimento rotturatore, che scende di 2 centesimi di secondo, da 0,09 a 0,07, quindi prestazioni che alzano sempre di più l'asticella. Corpo in magnesio, comunque corpo tropicalizzato, e la messa a fuoco rimane quella a rilevamento di fase, quindi precisa, veloce e puntuale, aggancio in 0,18 secondi. Autofocus che si spinge fino a meno 5,5 e V, cioè quando l'occhio comincia a faticare a riuscire a distinguere qualcosa, con un'ergonomia più semplificata troviamo il PSAM, quindi il classico selettore delle modalità a disposizione che tutti conoscono, e un selettore passare rapidamente a modalità foto alla modalità video. C'è il joystick per la scelta del punto di messa a fuoco a portata di pollice, e la nuova batteria derivata dalla X-T4 che aumenta le prestazioni sia quando scattiamo utilizzando il mirino che il display sul retro. Il display purtroppo non è completamente orientabile, ma rimane con una cerniera di nuova concezione, e anche un po' piccolino onestamente, qui Fujifilm poteva forse fare qualcosa di diverso. Rimane comunque il display del secondario, che è un OLED molto affascinante, e prestazioni video. 4K30P, che è notevole, ma soprattutto registrazione fino a 120 minuti consecutivi senza interruzione. Ha la facciaccia di Canon e dei suoi problemi sul riscaldamento, il tutto tra l'altro senza crop, e possiamo utilizzare il formato 17 noni. Abbiamo poi le simulazioni di pellicole anche nel video, abbiamo il 420, 422 10 bit, sulla scheda interna, esternamente si va anche oltre. Qua anche alcune cose interessanti in utilizzo generale, c'è il fatto di avere disponibile a schermo sia il tempo di registrazione trascorso che rimanente. Ma andiamo ancora avanti, perché abbiamo comunque ingressi per microfono e uscita per cuffia, doppio slot per schede di memoria di tipo SD o HS2, l'USB-C e la micro HDMI, l'ingresso PC-Sync per i flash, e anche per il telecomando di scatto remoto, quindi connessione a più che complete. Qui troviamo il riassunto di tutte le caratteristiche, a me piace molto vedere che il mirino è comunque un'ottima unità da 3,69 megapixel, con ingrandimento 0,77x e 85 fps, quindi un ottimo mirino. Raffica, se vogliamo, da 5 frame per secondo. Forse l'unica cosa che mi spiace è che comunque il vertical grip, quello classico, con doppia batteria e con il secondo tasto di scatto e altri comandi, non c'è. C'è soltanto l'impugnatura in metallo che inciccia un po' la presa. Questo Fujifilm no, questo onestamente non mi è piaciuto. Per me il vertical grip, per me che sono un ritrattista, è un accessorio fondamentale. Qui vediamo una scheda, ma ve la lascio rapidamente da consultare, il confronto tra la 50, la 100 e la nuova 100S, con tutte le caratteristiche riportate. Quello che è evidente è come siano aumentate le prestazioni e diminuite sia le dimensioni che il peso. Qui evidenziate alcune caratteristiche, forse quella su cui fermarci un attimo è il primo. Il RAW per scatto singolo può arrivare fino a 16 bit. Scende 14 bit nella raffica, quindi davvero tanta ciccia su cui andare a lavorare. E finalmente vedrete, ma quanto mi costa questo? Ricordiamoci che la vecchia GFX, si fa per dire vecchia, partiva da 10.000 e spicci euro. Qui partiamo subito al lancio 6.185. Se ci pensiamo è un prezzo inferiore a quello della nuova Alpha 1 che abbiamo visto ieri da Sony. disponibilità a partire da marzo, ma non è finito qui. Questa è la roadmap, quindi la linea delle ottiche che sono state presentate e che verranno presentate. Nel 2020 abbiamo visto due ottiche nuove. Nel 2021 ne vedremo un'altra che dovrebbe uscire a febbraio, anzi probabilmente più a marzo, che è un 80 mm con un bel po' di record. Apertura 1.7. È l'ottica più luminosa di sempre di tutta la serie GF. Corrisponde a un 63 mm, quindi nel via di mezzo tra un normale e un'ottica di ritratto. E comunque rimane abbastanza compatto e abbastanza leggero a 796 grammi. Prezzo anche per questo? 2.345. Insomma, facendoci due conti, potremo spendere quelle 8.500 euro, spicciolo più, spicciolo meno, e avere un vero mostro per dedicarci alla fotografia e anche il video. Ma non finisce qui, oggi sono due le novità che avete visto dalla copertina. C'è anche la piccina di casa, ma la piccina in tutti i sensi, ovvero questa nuova X-E4. Era tanto tempo che aspettavamo questa sua evoluzione del corpo in stile telemetro, ovvero col mirino fortemente dissassato sulla sinistra. Ed è una macchina fortemente ispirata, messa a confronto alla stessa Fujifilm, con l'X100V, che ricordiamo che l'X100V non è a ottiche intercambiabili. Nasce con il suo 23 mm e siccome è saldato, con quello muore. E si vede che riesce ad essere ancora più compatta e ancora più leggera dell'X100V. Infatti qui vediamo tutte le attristiche, quindi le dimensioni e i pesi, e vediamo che i 478 rammi dell'X100V scendono a 364 rammi per la X-E4, davvero la più leggera fotocamera serie X di quarta generazione. Abbiamo comunque lo schermino ribaltabile, perdonate ma le foto che ci hanno mandato quelle di Fujifilm le hanno fatte di oggetti scuri, poco illuminati, su fondo nero. Comunque è ribaltabile sopra la fotocamera. Posizione che vogliamo un po' fastidiosa se utilizziamo microfoni esterni, se utilizziamo pannelli LED sopra la fotocamera, oppure qualsiasi accessorio messo comunque sopra la salita flash, come ad esempio il flash. Però comunque se utilizziamo una macchina nuda possiamo farci dei selfie o dei vlog senza il minimo problema. Avremo due varianti di colore, un argento e una nera, con una calotta superiore in magnesio, quindi anch'essa bella resistente. E qui un po' di confronti. Vedete che rimane la più piccola, la più leggera di tutta la serie X, ottiche intercambiabili, ma anche della concorrenza. Z50, A6400 e la M6 Mark II comunque sono più cicciotte e più pesanti. Lo stesso al design esterno, vedete che è stato molto ripulito e molto semplificato. In realtà sono scomparsi due pulsanti, che a me un po' spiace quando vengono eliminati i pulsanti. Mi spiace ancora di più che è stata eliminata una ghiera, quella a portata di pollice. Questo un po' spiace. Infatti vedete, pulsanti e ghiere ridotte è il minimo, ma comunque c'è tutto quello che vogliamo. La ghiera dei tempi, attenzione, c'è anche la P di programma. Quindi possiamo gestire il classico programma rapidamente, sia andare per tempi, la ghiera della compensazione, che io adoro grazie a Fujifilm, la ghiera della compensazione, e il fondamentale pulsante Q è per il quick menu, per l'accesso veloce a cambiare le impostazioni. Dietro abbiamo, comunque si vede, la cosa interessante del joystick a portata di pollice per spostare quello che è il punto di messa a fuoco. Il mirino comunque è da 2,36 megapixel. Abbiamo anche qui due modalità di gestione. Qui abbiamo il repilogo di tutta quella che è la scheda tecnica, in cui notiamo, in fondo c'è da dirlo, abbiamo sempre 26 megapixel, il sensore retroilluminato, di tipo X-Trans CMOS 4, in formato APS-C. Ma non dimentichiamo i punti forti, che comunque la messa a fuoco è a rilevamento di fase, e qui si spinge fino a meno 7 e V, proprio qui l'occhio umano non ci vede più. L'autofocus è in 0,02 secondi, e abbiamo comunque l'inseguimento sia sul volto sia sull'occhio. Il resto poi abbiamo raffica da 8 frame per secondo e chi ne ha le più le metta. Ma anche in ambito video non si difende male, perché abbiamo senza crop, che è importante, 4K30P. 4,222 10 bit sull'HDMI, 4,208 bit sulla scheda interna, con un bitrate fino a 200 Mbps. E comunque se andiamo a vedere le connessioni abbiamo l'ingresso per microfono e abbiamo tramite l'USB-C sia la ricarica, sia la trasmissione dati, sia l'uscita cuffie. Non manca il micro HDMI classico. Abbiamo uno slot solo per schede tipo SD e la batteria il tipo nuovo, anche questo qui. C'è da dire che nella scatola, questa la voglio sottolineare, ormai si va avanti con questa scelta di non mettere il caricabatteria esterno, ovvero la batteria di serie può essere caricata soltanto all'interno del corpo macchina e con un caricatore che dobbiamo avere noi a casa. Il classico caricatore è il nostro cellulare USB-C, lo attacchiamo e carichiamo. Ma a me non dà tanto fastidio il fatto che il caricatore deve utilizzare quello che hai già in casa o comprarlo a parte, è che se vogliamo comprare una seconda batteria e caricarla quindi al di fuori del corpo della macchina, dobbiamo comprare anche il caricabatterie esterno opzionale. Sempre opzionale ci sono alcuni accessori come l'appoggia pollice, cosa che secondo me trovo un po' inutile, uno cerca un corpo piccolo e leggero, cosa faccio? C'è giungo l'appoggia pollice e l'impugnatura per incicciarla. A questo punto vado sulle macchine più grandi della casa. Più interessante, carino, è la mezza custodia di pelle e l'adattatore per ottiche laica. Interessante il fatto che l'abbiano voluto proporre, ma ricordiamo, è sempre a PSC, quindi comunque andremmo a avere il fattore di moltiplicazione. Quali sono i prezzi? Allora se la prendiamo nuda, quindi soltanto corpo, 919€. Oppure in abbinata col 27mm 2.8 nuovo, di cui vario tra pochissimo, 1119€, che secondo me è la best combo, dovete prenderla così. Qual è quindi la roadmap per gli obiettivi serie X? 2020 abbiamo visto la novità, 21 avremo questo 27mm, arriverà più avanti il 18mm 1.4 e anche il 70-300 già pronti subito, ma andiamo a vederli. Questo 27mm ha due grandi novità. Innanzitutto abbiamo la ghiera dell'apertura dei diaframmi, quindi mentre il modello prima era liscio, dobbiamo controllarlo con le ghiere, qui invece la ghiera c'è. Con la posizione A e con un minimo di paraluce avanti, molto molto figo, rotondo, carino. Questo verrà reso disponibile insieme appunto alla X4, dicono praticamente sempre tra febbraio e in marzo il prezzo 469€. Vi dicevo che è una best combo che conviene prenderli insieme. Infine, questa è l'ultima notizia, sì, un bocce news lunghissima, ma la Flusifilm ha deciso di fare il botto, arriva anche un'ottica di cui, inoltre, non ce ne può fregare de meno. Si scherza, ma abbiamo anche il 70-300 f4-5.6, sapete che quando vedo i 5.6 già l'entusiasmo mi cala ai minimi storici. Comunque abbiamo anche questo, compatto, leggero, stabilizzazione ottica da 5,5 stop, anch'esso disponibile tra febbraio e marzo dovrebbe essere a 849,99€. E con questo abbiamo concluso questa mega carrellata e quindi sì, il fotografo che vuole macchine più piccole senza spendere troppo, effettivamente è soddisfatto da questi annunci. In particolare, penso, l'XE4 potrebbe diventare il best buy per chi cerca una macchina fotografica non dico da taschino, ma molto vicina. Mentre la GFX100, ditemi nei commenti se siete d'accordo con me, sta sempre più sdoganando quest'idea che le prestazioni possono salire, ma i prezzi possono anche scendere. Hai capito Sony? Si scherza, eh? Ciao a tutti ragazzi e al prossimo video.